Il banco vince. L'andrangheta aveva in mano la quasi totalità dei giochi e delle scommesse online sul territorio nazionale, passando da società estere con sede a Malta. Un sistema, quello delineato in conferenza stampa dal procuratore Derao e dal procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che vedeva l'unità di tutte le cosche in nome degli enormi profitti che derivavano dal meccanismo criminale. Dai Tegano ai Caridi Libri Zindato fino all'Endrine di Rosarno, tutti si interessavano di scommesse per il riciclaggio dei capitali e con un grande margine di profitto. Il sistema prevedeva la trasformazione dei centri di commercializzazione delle agenzie di scommesse in vere e proprie ricevitorie, in cui utenti ignari pagavano le poste dal vivo, circostanza che per la legge italiana sul gioco online è illegale. Si creava così un banco nero, senza registrazione dell'utente, i cui profitti venivano sottratti al controllo statale e alle tasse. Le menti dell'operazione, secondo la procura, due reggini, Mario Gennaro e Domenico Lagrotteria, avrebbero ricoperto una posizione verticistica in quanto referenti delle cosche all'estero. Sarebbero stati loro a decidere a chi assegnare le ricevitorie, tenendo conto degli equilibri criminali della provincia. Grazie a tutti!